Continua la marcia trionfare della Juventus passata anche sul campo del Verona, ma non è stata una passeggiata per gli Juventini, sorpresi da un gol a freddo e costretti così a inseguire. Era il sesto di gioco quando per questo fallo di gentile su Luppi il Verona fruiva di una punizione dal limite, tocco di mascetti per macchi e tiro violento che Zoff non trattiene, entra Cozzi e segna. Immediata la reazione bianconera che non dà però frutti, sia per una certa imprecisione degli attaccanti, sia per la buona disposizione del Verona che chiude tutti i varchi e inoltre si vale in porta di un ginulfi in grande giornata. Così al trentacinquesimo il portiere veronese devia in angolo un gran tiro di capello e un minuto più tardi è Damiani che manda alle stelle un bel suggerimento del regista bianconero. Dal suo canto il Verona rompe l'assedio sfruttando il contropiede e al trentottesimo va ancora a rete con Luppi che raccoglie il traversone di Busatta, segnando però con la mano. L'arbitro annulla senza la minima esitazione. Riprende la sua offensiva da Juventus che al trentanovesimo crea una concitata mischia nell'area del Verona, i cui difensori sui due consecutivi tiri di capello si salvano con un po' di fortuna. Il tempo si chiude con due ottimi interventi di ginulfi, al quarantaduesimo su tiro di Anastasi e al quarantaquattresimo ancora su un bolide del centravanti bianconero. Nella ripresa giunge subito il pareggio juventino a sua volta originato da una punizione dal limite per fallo di Busatta su Tardelli ed è lo stesso Tardelli che batte imparabilmente ginulfi. Insistono i bianconeri. Al sedicesimo il veronese Mascetti si infortuna e deve uscire dal campo e proprio mentre i Veneti sono ridotti in dieci la Juventus mette a segno al diciassettesimo la rete della vittoria con questa azione conclusa prepotentemente da Bettega. Reclamano per una presunta irregolarità i veronesi ma l'arbitro convalida. Vanno il serrate finale dei padroni di casa che si proiettano in avanti con generosità. Gli juventini si difendono con calma e la porta di Zoff non corre praticamente pericoli sino alla fine.